Allora, introduciamo Marco e adesso ci introduce il nostro terzo e ultimo relatore. Sì, il professore Angelo Fierro, ricercatore di ecologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'ambito della valutazione di impatto ambientale e dello sviluppo sostenibile. Per gli studenti ha inattivo un corso a scelta dal nome Scienze della Sostenibilità. Prego, lascio la parola. Buonasera a tutti e grazie per questo invito. Fa sempre piacere prendere parte a queste lodevole iniziative, soprattutto quando vengono dai giovani volenterosi e motivati. Allora, vedete lo schermo? No, vediamo. Ok, adesso sì. E vedete anche la presentazione. Sì, perfetto. Allora, questo intervento sarà decisamente diverso rispetto ai due che mi hanno preceduto. Come si può già evincere dal titolo, che è volutamente ironico, è volutamente provocatorio, si affronteranno probabilmente degli argomenti scomodi. Diciamo che inizio già dalla fine, nel senso che questa diapositiva è probabilmente una diapositiva di conclusione. Dov'è il problema? Il problema è che, soprattutto quando affrontiamo tematiche complesse, come quella del cambiamento climatico, della sostenibilità in senso più ampio, l'errore che commette l'uomo è quello di semplificare estremamente la complessità. E dietro questo fenomeno di semplificazione ci sono diversi attori, a cominciare dai cosiddetti portatori di interessi, dalle lobby, dai politici, dai scienziati e anche ovviamente dai mass media. Diciamo che la semplificazione ha un nome, si chiama ipocognizione. George Lakoff definisce l'ipocognizione quando c'è una visione estremamente riduzionistica, specializzata, di problemi complessi. E quindi fondamentalmente quando ci troviamo ad affrontare sistemi complessi, cerchiamo di semplificarlo al massimo e di risolvere un singolo problema alla volta. Una delle forme con cui si manifesta l'ipocognizione è quella di eliminare quelle che sono considerate delle conoscenze note. Eliminare le conoscenze note dal dibattito pubblico o dal dibattito scientifico, Steve Ryan l'ha chiamato, fondamentalmente ha chiamato queste conoscenze come delle conoscenze scomode. Conoscenze scomode perché in qualche modo minano quella che è la nostra visione semplificata, la nostra visione autoconsistente di quello che percepiamo nel mondo. Questo fenomeno rischia di generare quello che sempre Steve Ryan chiama la costruzione dell'ignoranza sociale. Molto spesso l'esclusione dal dibattito delle conoscenze scomode raggiunge situazioni estreme che è rappresentata da una vera e propria cancellazione culturale di questo sapere, perché appunto risulta scomodo. E questo è un problema che oggi stiamo vivendo anche nel contesto politico e quello che Saltelli e Gian Pietro hanno riportato molto bene in questo articolo nel dimostrare che oggi fondamentalmente non ci troviamo dinanzi a delle politiche che si basano sulle evidenze scientifiche, ma al contrario ci troviamo dinanzi ad una scienza che cerca di capire solo quelle che sono le conoscenze comode per far comoda quelle che sono le evidenze che la politica ti pone davanti. E questo è quello che purtroppo succede non soltanto sulle tematiche dei cambiamenti climatici, ma anche ovviamente sulle tematiche più ampie della sostenibilità. Lo diceva prima Carmine, Carmine Arena, fondamentalmente noi uomini abbiamo una visione antropocentrica e tutti quelli che pongono l'attenzione centrale, la vita umana, fondamentalmente quando ci troviamo ad affrontare problemi complessi, evitiamo questi problemi complessi. E nel fare questa operazione di evitare i problemi complessi, fondamentalmente rischiamo di non vedere, come dicono gli anglosassoni, l'elefante nella stanza, cioè delle situazioni che sono talmente macroscopiche che comunque ci sfuggono, proprio perché vogliamo evitare di osservare la complessità. Eric e Olden negli anni 70, per il secolo scorso, hanno proposto un'equazione molto semplice che è nota come equazione IPAT, che io qui ho leggermente modificato, cioè al posto della I di impatto ci ho messo la M di metabolismo, perché tutto sommato il metabolismo umano si traduce in un impatto, un impatto ambientale, perché il metabolismo sfrutta le risorse, utilizza le risorse e emette sostanze di rifiuto, sostanze inquinanti. Quindi il metabolismo e l'impatto sono la risultante di tre variabili, che sono la popolazione umana, lo stile di vita, il nostro stile di vita, il consumismo, quello che consumiamo, e la tecnologia. Dov'è il problema dell'ipocognizione, quindi della semplificazione dei fatti? Che fondamentalmente oggi figlia anche appunto di una percezione scientifica cartesiana, quindi il sogno cartesiano che tutto si può risolvere attraverso la semplificazione, attraverso la scomposizione. Individuiamo nella tecnologia l'unico modo per risolvere i problemi, i problemi complessi dei nostri impatti sull'ambiente. E quindi la classica narrativa del tecnocrate è attraverso la semplificazione, ignoriamo la complessità, semplifichiamo e riusciamo a trovare le soluzioni. E quindi noi i problemi complessi come li affrontiamo? Stiamo andando verso l'esaurimento dei combustibili fossili, va bene, non troviamo la soluzione, ad esempio facciamo i biofuels, oppure si sta estinguendo il panda o qualsiasi altra specie, non c'è nessun problema. Come diceva prima Carmen, interveniamo con l'ingegnerizzazione e quindi salviamo le specie, oppure si sta accumulando troppo CO2 in atmosfera, decarbonizziamo e puntiamo verso energie rinnovabili alternative che non emettono CO2. Il problema è che non è così semplice, non è tutto così facile. Diciamo questa ottusa, direi, voglia di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla risoluzione di problemi complessi soltanto attraverso le soluzioni tecnologiche, Jason Hoff e Kim l'hanno chiamata l'economia delle promesse tecnologiche. L'economia delle promesse tecnologiche, come dicono Fantovic e Rave, che sono i padri della post-normal science, ma dietro tutto questo non ci sta altro che l'ancien regime, cioè quindi fondamentalmente chi fino adesso ha gestito l'economia da fossile che si vuole ritagliare nuove nicchie utilizzando fondamentalmente tecnologie che vengono definite rinnovabili. Conoscete perfettamente la nostra situazione politica che ha istituito questo ministero chiamato ministero della transizione ecologica. Mi pongo una domanda, ma ha senso chiamarlo ministero della transizione ecologica o è meglio definirlo un ministero della transizione energetica? A giudicare da quello che sta venendo fuori dai proclami del ministro di Castelo, fondamentalmente è più ministero della transizione energetica, perché si sta concentrando soprattutto sulla scelta, ancora una volta, di tecnologie, cioè di cosa fare per affrontare i problemi del cambiamento climatico o più in generale della sostenibilità. Ma un ministero della transizione ecologica non può ignorare anche importanti aspetti che sono fondamentali e che caratterizzano il metabolismo dei sistemi socio-economici, quindi dobbiamo sapere anche quanti ne siamo e quanto consumiamo per cercare di risolvere i problemi della sostenibilità ed eventualmente dei cambiamenti climatici. Questo mio intervento non parlerà di cambiamento climatico. Sul cambiamento climatico mi limito a dire che è un sistema complesso. Come tutti i sistemi complessi non possono essere compressi e altrimenti le variabili in gioco sanno tante, altrimenti rischiamo di fare la fine del tacchino di Bertrand Russell. Sta di fatto che la complessa macchina del cambiamento climatico è dovuta non soltanto ad azioni umane, è dovuta anche a azioni geologiche, biofisiche, cosmiche, mi riferisco soprattutto alla variazione dell'attività solare. Ora, indipendentemente da quello che il ruolo che sta avendo l'attività umana sul cambiamento climatico, se preponderante o lo è in minima misura, sta di fatto che comunque questa è una prova dell'intensa attività metabolica umana che anche se contribuisce poco sul cambiamento climatico sta contribuendo comunque con altre forme di variazione dell'ecosistema globale. Mi voglio concentrare più sulla sostenibilità e se ci riflettete attentamente non è che esiste una definizione condivisa o anche una definizione chiara di sostenibilità. Quella probabilmente più diffusa e più utilizzata è questa qui della Commissione Brantland che è stata partorita negli anni Ottanta, quindi un bel po' di anni fa, dove fondamentalmente definisce uno sviluppo sostenibile, quindi un percorso, un percorso virtuoso verso il quale andare, ma non ci definisce tutto sommato la sostenibilità, che cos'è realmente la sostenibilità. Però quello che vorrei sottolineare è che la definizione Brantland parla espressamente della necessità di garantire quelli che sono i desideri del presente, senza compromettere quindi anche alle generazioni future di poter beneficiare delle stesse necessità. Questa definizione è stata presa, è stata riconosciuta da questo grande progetto che è noto come il progetto del raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile planetario, riprende questa definizione e fondamentalmente sottolinea che lo sviluppo sostenibile deve armonizzare questi tre pilastri, questi tre elementi che sono la crescita economica, l'inclusione sociale e ovviamente la protezione dell'ambiente. Ora, se ci fate caso, bisogno del presente, crescita economica vuol dire fondamentalmente mantenere lo status quo. Quindi per sviluppo sostenibile vuol dire continuare a mantenere l'attuale metabolismo. Quindi fondamentalmente stiamo dicendo alle generazioni future non vi preoccupate, state tranquilli perché tanto comunque voi continuerete ad avere la stessa vita felice che abbiamo noi, tanto è vero che l'ottavo punto dei 17 obiettivi, l'ottavo obiettivo dei 17 obiettivi è quello di garantire la crescita economica. E in che modo fondamentalmente i governi internazionali si stanno muovendo per garantire questi 17 obiettivi e soprattutto anche per garantire questo ottavo punto. E quello fondamentalmente di puntare su nuove tecnologie, su soluzioni tecnologiche tali da consentire alle future generazioni e di continuare a mantenere lo stesso stile di vita che stiamo avendo noi e che abbiamo avuto noi in questo periodo. Ora, quello che fa riflettere, a me fa riflettere, ma probabilmente credo che fa riflettere anche voi, è la tempistica 2030. Ma siete sicuri che riusciremo a raggiungere questi obiettivi nel 2030? Io mi definisco abbastanza anziano per non vedere quelli che saranno gli effetti un po' più tragici delle nostre azioni sul pianeta, ma sufficientemente giovane per arrivare al 2030 e cercare di capire se almeno uno di questi obiettivi sarà raggiunto. Io sono a quanto pessimista, secondo me non si raggiungerà neanche mezzo. E quindi cerchiamo di dire le cose come stanno realmente, soprattutto alle future generazioni. Come dice Mario Giampietro, la sostenibilità è qualcosa che ha a che fare con la consapevolezza dei cambiamenti drammatici. Quindi non ci illudiamo, non potremo mai essere gli stessi, non saremo mai gli stessi, soprattutto se puntiamo a questi processi di transizione energetica come vedremo dopo. I padri della cosiddetta ecological economics, Goodland e Dele, già negli anni 90, quindi più di 30 anni fa, facevano la distinzione tra quella che l'ONU appunto la chiamava una sostenibilità debole e la sostenibilità forte. La sostenibilità debole è fondamentalmente quella che stiamo perseguendo, è la strada che stiamo perseguendo da sempre ed è basata soprattutto su una narrativa di tipo tecnoeconomica, quindi basata sulla scomposizione della complessità, sul sogno cartesiano che attraverso la semplificazione noi riusciamo a risolvere i problemi e si basa soprattutto sulla consapevolezza che la tecnologia sarà in grado di disaccoppiare quelli che sono i comportamenti, le nostre nuove capacità tecnologiche, di sfruttare le risorse e quindi un disaccoppiamento rispetto a quelli che sono i vincoli che ci obbliga la natura. E in realtà non definisce una sostenibilità assoluta, ma definisce fondamentalmente una sostenibilità relativa, cioè compatibilmente con quelle che sono le evoluzioni tecnologiche e quella tecnologia che cosa è in grado di migliorare rispetto a tecnologie precedenti o rispetto a tecnologie equivalenti. La vera sostenibilità verso cui dobbiamo andare è quella è la forte sostenibilità relativa di tipo ecologico, di tipo bioeconomico e dove effettivamente si riconosce il ruolo principale dell'ambiente, dove i vincoli imposti dall'ambiente sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, quindi per la sopravvivenza dei sistemi socio-economici. Questo tipo di sostenibilità esprime effettivamente la sostenibilità assoluta, cioè vuol dire che dobbiamo avere una percezione multiscala, quindi non possiamo osservare il singolo sistema metabolico, dobbiamo osservare l'intero sistema metabolico e questo fondamentalmente viene sentenziato dal famoso paradosso di Jevons, quindi se non vediamo l'intero sistema metabolico non potremo mai capire se effettivamente l'efficientamento tecnologico ha avuto un buon esito. Quindi aiutiamo ancora le future generazioni cercando di dare una definizione di sostenibilità che è una definizione metabolica, quindi a questo punto possiamo definire sostenibile la capacità che ha un sistema di sopravvivere, in questo caso il nostro sistema metabolico che stiamo osservando e che dobbiamo definire sostenibile è il nostro sistema socio-economico, quindi il sistema metabolico umano, che è un sistema metabolico umano che come vedremo assume determinate connotazioni strutturali e grazie a queste connotazioni strutturali che può funzionare può funzionare e che consente quindi a questo sistema di prelevare le risorse dall'ambiente quelle che sono stati definiti capitali naturali nella precedente presentazione e quindi la sopravvivenza di questo sistema dipende fondamentalmente da tre livelli di performance che le possiamo chiamare viability quindi compatibilmente con quelle che sono le capacità del sistema umano di utilizzare le risorse una performance che chiamiamo feasibility quindi compatibilmente con quelli che sono i vincoli che sono imposti dall'ecosfera quindi dall'ambiente e non dobbiamo dimenticare anche che il nostro comportamento socio-economico ha a che fare con la social disabilità fondamentalmente con gli aspetti istituzionali comportamentali normativi che regolano il comportamento dei sistemi socio-economici la domanda che ci dobbiamo porre diventare sostenibili puntare verso la sostenibilità sapendo che gli stock quindi le riserve naturali prima o poi si esauriranno e sapendo che questi stock hanno messo a disposizione agli attuali sistemi socio-economici un'enorme quantità di materia di energia a una velocità impressionante quindi questi sistemi saranno in grado di mantenere lo status quo così come recita la definizione Brantlein e così come recita anche la dichiarazione dei 17 obiettivi sulla sostenibilità si saranno in grado di mantenere questo status quo modificando e quindi passando non più da riserve ma passando a sistemi che ti mettono a disposizione energia metera ad una velocità molto ridotta quindi nel caso della narrativa sul cambiamento climatico solitamente va di pari passo con quella della transizione energetica quando si parla di cambiamento climatico o meglio di opposizione al cambiamento climatico non dobbiamo puntare verso politiche energetiche alternative per cercare di ridurre questi impatti e ovvio siamo obbligati perché l'abbiamo visto prima inevitabilmente gli stock le riserve di fossile si esauriranno e quindi dobbiamo necessariamente cambiare strategia energetica la domanda che ci dobbiamo porre ma saremo gli stessi poi dobbiamo anche convincerci di una cosa che il concetto di energia il concetto di energia rinnovabile o non rinnovabile è un concetto semantico perché a definire queste due categorie non è sufficiente dire in non rinnovabile e inquinante il non rinnovabile si esaurisce il rinnovabile invece lo possiamo ricostituire nello stesso tempo impatta meno sull'ambiente noi dobbiamo tener conto anche dell'identità semantica di queste due categorie e l'identità semantica soprattutto l'efficacia di queste risorse dipendono dall'utilizzo finale quindi dall'end users e dall'end use saranno loro a definire se effettivamente queste fonti energetiche sono affidabili per mantenere sempre il nostro status quo non dimentichiamo che gli obiettivi della sostenibilità puntano sempre a mantenere lo status quo vediamo un po' che cosa ci dice Vaclav Smilla che è uno dei maggiori studiosi di energetica questo grafico di Vaclav Smilla descrive quelle che sono le transizioni energetiche che ha vissuto l'umanità soprattutto a partire dall'era industriale quindi prima di questo periodo la prima transizione è quella dalle biomasse al carbone la seconda transizione è quella dal carbone al petrolio la transizione successiva è quella verso il gas naturale quello che ha osservato Vaclav Smilla è che fondamentalmente la tempistica è più o meno equiparabile ci sono voluti 60 anni per passare da una transizione energetica all'altra quali sono stati i fattori che hanno determinato questa tempistica fondamentalmente l'adattamento tecnologico a queste nuove forme di energia si tratta di capire se adesso anche con le energie rinnovabili la tempistica sarà analoga ma in questo caso non sarà tanto l'adattamento tecnologico a determinare la tempistica di questa transizione ma sarà un altro problema che la densità di potenza infatti sempre Vaclav Smilla ci fa notare che in un periodo equivalente di 30 anni vale a dire dal 1885 al 1915 la crescita delle turbine a vapore che si è avuto in questo passo di tempo è stata di ben 2000 volte mentre nello stesso lasso di tempo sempre di 30 anni l'incremento delle turbine eoliche è stato appena di 20 volte dimostrazione del fatto che l'elevata densità di potenza messa a disposizione dall'energia fossile ha consentito questo incremento tecnologico e quindi sfruttare al meglio questa enorme fonte energetica che cos'è la densità di potenza la densità di potenza è il primo grande elefante che cominciamo a vedere nella stanza non possiamo ignorare il fatto che la nostra società si è strutturata su valori di densità di potenza che si esprime come watt su metro 4 in ultima analisi è il flusso di energia che possiamo disporre in unità di tempo e in unità di superficie le società si sono strutturate su valori di densità di potenza che l'energia fossile ha messo a disposizione che ha dei valori che superano il 1000 watt al metro quadro passare ad energie rinnovabili come energia eolica o energia fotovoltaica vuol dire passare a dei valori nettamente più bassi pensate che un impianto fotovoltaico di nuova generazione ha dei valori di densità di potenza che raggiungono 10 impianti eolici di nuova generazione hanno dei valori di densità di potenza intorno a 5-6 watt per metro quadro i valori si abbassano ulteriormente se pensiamo ad esempio ai biocombustibili dove addirittura superano di poco lo zero altro elefante nella stanza è ovvio che questa disponibilità di densità energetica così alta ha consentito il cambiamento strutturale della nostra società quindi non soltanto come aumento del numero di popolazione ma anche della struttura come vedremo dopo cioè di come si è strutturato in realtà lo si può già evincere da questa curva dove con il passaggio dall'economia prefossile all'economia fossile si è ridotto il numero di persone che lavorano le terre quindi fondamentalmente si è passati da settore agricolo predominante ad altri settori vediamo quali sono i fatti i fatti fondamentalmente sono questi se andiamo a vedere a partire dai primi tentativi di riduzione di abbattimento del biossido di carbonio in atmosfera fino agli ultimi nulla è cambiato quindi tanti proclami ma fondamentalmente il trend resta lo stesso tra l'altro è banale chiedersi perché questo sta succedendo se vogliamo crescere economicamente se vogliamo mantenere intatta questa struttura sociale abbiamo inevitabilmente bisogno di gradienti di gradienti energetici e di gradienti di materia quindi soltanto il fossile in questo momento ce lo può mettere a disposizione ed ecco perché nonostante tanti proclami tante buone intenzioni l'incremento di CO2 continua a registrarsi tra l'altro se andiamo a vedere quello che è l'incremento del debito dell'economia globale pensare dal 2007 al 2014 c'è stato un incremento di 57 trilioni di dollari in poche parole oggi abbiamo un debito che supera i 200 trilioni di dollari quindi è del 300% superiore rispetto a quello che è l'economia reale quindi il prodotto interno quindi quello che la reale economia riesce a produrre come valore monetario tra l'altro si prevede che per effetto del covid questo debito aumenterà ulteriormente quindi è ovvio che una società globale che si trova a dover colmare questo debito per farlo deve necessariamente spremere l'ambiente deve necessariamente puntare sulla produzione di beni e servizi per cercare di colmare questo debito questa che vedete è una rappresentazione tipica della società della regione campania che è una rappresentazione tipica di un paese sviluppato cosa vuol dire vuol dire che se andiamo a vedere con attenzione la quasi totalità delle persone che vivono in un'economia a paese sviluppato è fatta da famiglie quindi i cosiddetti household non hanno un ruolo produttivo quindi questa è la distribuzione per età dell'Europa dell'intera Europa quindi si vede che una buona fetta della popolazione è inattiva quindi sono persone che non hanno un ruolo produttivo sono i retired cioè i pensionati e sono ovviamente i giovani in età prescolastica e scolastica quindi soltanto una piccola parte della percentuale della popolazione una piccola percentuale della popolazione ha un ruolo produttivo se entriamo quindi nel caso della regione campania e quindi nel caso di una tipica economia sviluppata meno del del 30% della popolazione ha ruoli produttivi quindi svolge un ruolo nel produrre servizi e beni addirittura quelli che producono beni materiali si riducono al di sotto del 10% fateci caso il settore agricolo e il comparto agricolo è rappresentato soltanto il 3% delle persone perché questo è possibile? anche a fare un piccolo calcolo andiamo a vedere quante ore la società una tipica società di economia sviluppata investe per produrre questo tempo rappresenta meno del 2% questo perché è possibile? perché noi riusciamo a produrre grazie alla meccanizzazione con la meccanizzazione noi diventiamo soprattutto esseri consumanti attraverso il nostro consumo noi manteniamo attiva la fase di produzione la produzione ce la fanno le macchine e noi con le macchine e le macchine vi ricordo vanno a energia se andiamo a vedere la classica dinamica che lega il prodotto interno lordo con la percentuale di persone che sono coinvolte in attività agricole vedete che bassi valori di prodotto interno lordo si ha una percentuale elevata di persone che sono nel settore agricolo quindi quando oggi si parla di puntare verso le tecnologie green e le soluzioni green vuol dire fondamentalmente ridurre progressivamente il nostro prodotto interno lordo e quindi di aumentare il nostro divario con il debito pubblico tra l'altro i problemi del cambiamento climatico non è che riguardano tutta la popolazione o meglio il cambiamento climatico ha un effetto ambientale che riguarda il globe e quindi riguarda tutti quanti ma i principali attori sono pochi fondamentalmente i principali utilizzatori di energia a livello planetario sono fondamentalmente i paesi sviluppati e questa linea in verde quindi i paesi della dell'ESD e i paesi asiatici che sono in rapida crescita economica che è questa curva gli altri fondamentalmente hanno un ruolino molto molto limitato cioè loro pagano le conseguenze delle nostre abitudini economiche per intenderci e alla faccia del primo obiettivo dei 17 dello sviluppo sostenibile di ridurre fondamentalmente la povertà o di non avere più povertà entro il 2030 ditemi voi se con un trend di questo tipo questi qua non rischiano di diventare ancora più poveri ancora no per capire quali possono essere le conseguenze se vogliamo puntare alle politiche di mitigazione delle emissioni di CO2 in questo grafico sono abbiamo due variabili che sono la carbon intensity relativa all'unità del GTP quindi fondamentalmente quanto carbonio quanto CO2 liberiamo in relazione al valore monetario che produciamo con le nostre attività e le emissioni espresse per per abitante in verde è la situazione attuale di questi paesi India Cina Germania Brasile eccetera eccetera questo palino grigio quelle che dovrebbero essere le politiche che dovrebbero si dovrebbero perseguire entro il 2050 e qui invece quelli che dovrebbero essere risultati in termini di questi parametri se puntiamo verso un abbattimento della temperatura globale di 2 gradi centigrari vedete c'è un vero e poco collasso dell'economia quindi ditemi voi se in una situazione di questo tipo riusciamo a colmare quel debito del 300% rispetto al prodotto interno lordo Mario Gianpietro per ridicolizzare o comunque per ironizzare ecco forse il termine preciso su quello che è la nostra come dire fiducia verso le soluzioni tecnologiche che spiega in che modo in maniera erronea fondamentalmente utilizzando alcuni indicatori noi apparentemente dimostriamo di essere così virtuosi da un punto di vista ambientale pur mantenendo alto la nostra produttività economica uno di questi indicatori è rappresentato dall'economic energy efficiency non è altro che il rapporto tra l'energia che un'economia utilizza riferita all'unità di prodotto interno lordo questo dato è relativo agli Stati Uniti nel periodo che va dal 1950 al 2000 quello che si osserve è un calo di questo rapporto che fa pensare ai politici agli economisti che siamo diventati bravi virtuosi perché aumentiamo i nostri guadagni aumentiamo il valore dei beni e dei servizi che produciamo ma consumiamo di meno ma se andiamo a vedere quella che è la tendenza del consumo totale di energia la tendenza della popolazione quindi un accrescimento della popolazione quindi un accrescimento della componente metabolica che consuma energia il trend è in salita come è possibile la stessa cosa anche per la Cina il problema qual è? che fondamentalmente noi non possiamo fare un rapporto tra due variabili che vanno nella stessa direzione quindi si sta commettendo un gravissimo errore di tipo matematico e sempre per ironizzare sull'utilizzo improprio di questi indicatori che ci fanno apparire così virtuosi Mario fa questo esempio della dematerializzazione dell'elefante come se noi volessimo confrontare il metabolismo di un topo e di un elefante sapete che gli organismi di piccole dimensioni hanno un metabolismo molto accelerato quindi i watt consumati su unità di massa sono molto più alti rispetto ai watt consumati su unità di massa da parte di un animale di grosse dimensioni questo vuol dire che 10 kg di topo consumano 30 watt mentre 10 kg di elefante consumano 5 watt ma com'è possibile se è dematerializzato l'elefante no l'elefante è pur sempre un animale di grosse dimensioni ha bisogno di spazio ha bisogno di molte risorse questo ci fa capire che se vogliamo effettivamente valutare l'efficienza di un sistema non dobbiamo solo fare affidamento a dei rapporti intensivi a delle variabili intensive ma dobbiamo anche vedere le variabili estensive quindi quanto sei grande quanto stai consumando e in questo modo quindi di come vengono anche in maniera disonesta utilizzate in maniera erronea certi indicatori ancora una volta per dimostrare quante belle intenzioni ci sono ma di fatto non si stanno traducendo in risultati reali ed effettivi queste sono le previsioni che erano state fatte per la transizione energetica negli Stati Uniti dove ci sono diverse previsioni fatte da studiosi fatte addirittura da amministrazioni politiche pensate per esempio questa qui molto ottimistica del fisico Sorensen che negli anni 70 aveva previsto che nel 2000 gli Stati Uniti avrebbe funzionato per il 50% con energie rinnovabili addirittura l'amministrazione Carter che negli anni 80 aveva detto che sempre per lo stesso periodo almeno il 20% dell'energia utilizzata dagli Stati Uniti derivava dal solare e vedete qua ci sono tanti altri modelli previsionali e questa è la reale dinamica fondamentalmente oggi negli Stati Uniti il consumo o comunque l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili non supera il 10% ma fate attenzione include anche l'idroelettrico che è una fonte rinnovabile e comunque fa parte del grid già da diversi anni vedete questa è comunque la tendenza globale questo è quello che succede dopo Kyoto non c'è stata questa tendenza non c'è stata questa tendenza continua a esserci questa tendenza perché la nostra economia continua ad avere bisogno di fossili e questo è l'uso che stiamo ancora facendo di energie rinnovabili a dimostrazione di quanto sia estremamente difficile la transizione energetica questo è l'esempio come dire fallimentare dell'energivende che sarebbe la transizione energetica tedesca che è stata bollata dalla corte dei conti tedesca come un totale fallimento un totale fallimento con addirittura loro parlano di pericolose ripercussioni sociali ed economiche in un futuro non molto lontano per la Germania ecco che cosa è successo per quanto riguarda ad esempio le emissioni di CO2 sempre per la transizione energetica in Germania nonostante la capacità di potenza delle energie rinnovabili sia aumentata notevolmente le emissioni di CO2 non sono cambiate per nulla si osserva questo piccolo calo ma in realtà questo calo non è stato determinato dall'incremento dei rinnovabili ma risale diciamo al periodo della crisi economica tra il 2008 e il 2009 fondamentalmente dove vedete tutta l'Europa ha avuto un crollo del prodotto interno lordo che si è trasformato ovviamente in una riduzione dei consumi energetici e quindi in un abbattimento delle emissioni di CO2 sempre in riferimento all'Energy Vend da Class 1000 ci fa notare che fondamentalmente nulla è cambiato dal 2000 al 2016 per quanto riguarda il consumo di energie fossili bene o male è rimasto invariato intorno all'80% quello che si è osservato fondamentalmente è un incremento del costo medio dell'elettricità per il consumatore tedesco costo medio che è servito ovviamente per finanziare attraverso di incentivi le energie rinnovabili sapete che le energie rinnovabili sono fortemente sussidiate da fondi pubblici ed è una cosa che conoscete benissimo avviene anche qui in Italia tra l'altro è anche oggetto di attenzione da parte delle mafie sempre in redazione Energy Vend vedete che cosa è successo per quanto riguarda la capacità di potenza installata è aumentata notevolmente la capacità di potenza installata per la produzione di rinnovabili è aumentata anche se di meno quella di fossile però quello che si è osservato è una produzione di energia elettrica alternata cioè con dei picchi fondamentalmente perché è quello che succede quando noi utilizziamo soprattutto energie rinnovabili per produrre energia elettrica qua c'è un confronto tra Spagna e Germania quello che si vede è innanzitutto il consumo energetico è nettamente più alto da parte della Germania rispetto alla Spagna dunque la Spagna ha da sempre utilizzato fonti rinnovabili molte di questo sicuramente è idroelettrico quello che caratterizza un grid elettrico con la produzione da rinnovabile è una sono questi picchi questa intermittenza nella produzione di energia per quanto riguarda la Germania sono comparsi questi picchi in concomitanza con la transizione energetica mentre prima quando gran parte dell'energia derivava da fonti convenzionali in realtà qua non c'è solo il fossile ma c'è anche il nucleare la produzione di energia elettrica era lineare con la comparsa delle energie rinnovabili comincia a diventare intermittente che cosa succede quando si creano appunto fenomeni anche di competizione nella produzione di energia elettrica utilizzando fonti diverse e quando soprattutto una di queste fonti è sussidiata cioè vale a dire riceve dei finanziamenti pubblici sempre in Germania è successo che nell'arco di una giornata i produttori di energia elettrica con fonti convenzionali hanno perso qualcosa come mezzo trilione di euro perché perché come recita quest'articolo fondamentalmente era una giornata soleggiata e ventosa quindi gli impianti di produzione di energia rinnovabile hanno venduto a un prezzo decisamente concorrenziario di energia elettrica per evitare di ritrovarsi queste energie e di non perdere completamente tutto l'investimento ecco che i produttori di energia convenzionale sono stati costretti a svendere l'energia perdendo in una giornata questa cifra enorme altro esempio abbastanza rappresentativo di quello che può succedere quando si può fare solo affidamento alle energie rinnovabili è quello che è successo in Australia nel 2017 l'Australia ha vissuto una delle esperienze di blackout più drammatiche dovute a che cosa? dovute a che sempre per effetto dell'incentivazione con fondi pubblici della produzione di energia rinnovabile questo ha determinato fondamentalmente una sporca concorrenza che ha impedito fondamentalmente la produzione di energia quindi c'è stato un ritiro da parte dei produttori di energia convenzionale e c'è stato un momento di elevata eredità elevata seccità molto caldo e le energie rinnovabili non sono state in grado di sostenere e di sopportare la richiesta energetica di questo periodo e quindi c'è stato un intenso blackout dal momento che non c'erano più impianti di produzione convenzionale tali da sopperire a questa richiesta di energia è scattato il blackout quindi sempre Mario Giampietro ci fa capire che a determinare l'efficienza e l'efficacia di un sistema energetico di distribuzione energetica non è soltanto la natura dell'energia ma devi tener conto anche della domanda questo è un tipico andamento degli Stati Uniti ma è tipico di qualsiasi paese economia sviluppata e si osservano ovviamente dei picchi di richiesta energetica durante la giornata e dei picchi e una tendenza all'incremento durante la settimana e ovviamente questi picchi devono influenzare i sistemi di produzione di emissione di energia elettrica nella rete quindi immaginiamo una situazione di questo tipo la curva blu rappresentano la richiesta di energia se abbiamo una situazione energetica con impianti convenzionali che vengono chiamati dei base loaders cioè sono degli impianti che una volta accesi devono restare accesi e mantengono sempre una produzione costante di energia i base loaders sono soprattutto le centrali nucleari le centrali a carbone immaginatevi una situazione di questo tipo dove noi abbiamo soltanto dei base loaders quindi abbiamo una curva di questo tipo cioè una curva una produzione che arriva qui è in grado di soddisfare la richiesta energetica la domanda energetica della popolazione ovviamente avremo una sovrapproduzione di energia quindi abbiamo una dispersione energetica è un costo assolutamente ingestibile per garantire la richiesta questa domanda di energia allora bisogna puntare su quelli che sono chiamati i pickers i pickers sono quelle centrali che producono energia elettrica sfruttando fonti come il petrolio o il gas o anche l'idroelettrico sono modulabili sono regolabili e quindi questi pickers sono in grado di coprire eventuali picchi di domanda energetica se ci infiliamo in una situazione di questo tipo in un grid di produzione di energia elettrica di questo tipo anche le fonti rinnovabili avremo delle sovrapproduzioni di energia che vengono disperse vengono perse arriviamo ad un'altra situazione che è una situazione che sarà probabilmente quella che l'Italia vivrà in un futuro non molto lontano non so se avete letto le dichiarazioni del ministro Cingolani il ministro della transizione energetica preferisco chiamarlo così che ha detto che la nostra futura politica energetica non punterà esclusivamente sulle rinnovabili prima di arrivare ad una completa transizione sulle rinnovabili dobbiamo necessariamente fare affidamento su dei pickers e questi pickers saranno soprattutto centrali alimentate a gas in una situazione di questo tipo che cosa succede? succede che le rinnovabili non saranno in grado assolutamente di coprire la domanda di energia elettrica quindi dipenderemo dai pickers questo vuol dire che continueremo a mettere CO2 in atmosfera se vogliamo aumentare progressivamente il ruolo delle intermittenti quindi del fotoltaico o dell'eolico allora dovremo inevitabilmente pagare il prezzo di questa sovrapproduzione nei momenti della giornata durante i quali la domanda è limitata in che modo possiamo risolvere questo problema ovviamente la tecnologia le soluzioni tecnologiche stanno puntando soprattutto sui sistemi di accumulo ma sistemi di accumulo che in questo momento non sono assolutamente in grado di soddisfare questa capacità pensate che l'impianto più grande in questo momento si trova in California è in grado fondamentalmente di garantire una fornitura di energia elettrica di 20 megawatt per 4 ore ora se considerate una città come Tokyo che fondamentalmente ha bisogno di una quantità di energia di 600 gigawatt per ora ci vogliono 1500 di queste batterie con tutti gli impatti ambientali associati alla produzione di queste batterie quindi anche sulla disponibilità di risorse per avere batterie di questo tipo questa è solo una città come Tokyo immaginatevi città molto a tutte le altre città del pianeta di quante batterie di questo tipo dovremmo avere bisogno situazione fondamentalmente analoga sia anche per le tanto decantate auto elettriche immaginate di alimentare tutte le auto che in questo momento circolano in Europa che sono quasi 300 milioni di auto ci vuole fondamentalmente una capacità di storage pari a 24.000 gigawattora quindi pensate 40 volte la città di Tokyo questa che vedete sulla destra sono le fonti energetiche che stanno alimentando il grid dell'energia elettrica in Italia come vedete quasi l'80% è ancora da energia fossile quindi chi pensa che le auto elettriche in questo momento non siano impattanti o comunque non contribuiscono all'emissione di gas da tetto serra si stanno sbagliando in maniera abnorme arriviamo a quella che secondo me forse sono le soluzioni più eccentriche più bizzarre per abbattere il nostro contributo sui cambiamenti climatici che sono le bioenergie innanzitutto già questa figura ci fa capire che cosa è capace di fare il fossile che cosa è capace di fare le bioenergie cioè per ottenere una quantità di energia trasportabile in 1400 camion in una giornata di lavoro basta una persona per una quantità che è appena capace di riempire una centesima parte di un camion due persone che lavorano in una giornata quindi una quantità di energia irrisoria rispetto a quelle che sono le richieste della nostra società l'uso delle bioenergie come soluzioni tecnologiche per risolvere i nostri problemi soprattutto di esaurimento del combustibile fossile è una vecchia idea e già Henry Ford aveva prospettato l'uso del bioetanolo per alimentare le automobili questa proposta di Ford mi scotterò una risposta un po' ironica ma anche un po' ovviamente basita da parte di Samuel Brody che è considerato il padre il pioniere della bioenergetica animale che per commentare questa proposta tecnologica di Brody si richiamò la frase della regina Maria Antonietta che quando le si diceva il popolo è arrabbiato perché non ha il pane per mangiare Maria Antonietta rispose se non hanno il pane gli diamo le brioche gli diamo le croissants la dimostrazione che il bioetanolo è l'equivalente del croissant cioè fondamentalmente stai producendo qualche cosa per ottenere il quale consumi probabilmente molta più energia e chi di voi non so se conoscete la storia dei bio dei biofuels fondamentalmente si è passati da una prima produzione di biofuels soprattutto utilizzando prodotti che entravano in competizione con il food soprattutto il mais o la canna da zucchero questi biofuels venivano definiti biofuels di prima generazione e furono un vero e proprio disastro fallirono completamente perché ben presto ci si rese conto che per produrre queste bioenergie era necessario investire una notevole eliquota di combustibile fossile c'erano numerosi impatti ambientali annessi associati alla fase di coltivazione c'era ovviamente anche l'intenso uso di superficie per ottenere una quantità di energia sufficientemente rappresentativa tra l'altro anche questi sistemi di produzione erano incentivati in realtà lo sono ancora negli Stati Uniti sono ancora incentivati ma soprattutto il problema che è emerso è che ci fu un crollo della disponibilità di mais e quindi di farina di mais per l'alimentazione a pagarne le conseguenze furono ovviamente le popolazioni più povere che non si potevano più permettere di acquistare farine a un prezzo che era lievitato tantissimo fu definito un vero e proprio crimine nei confronti dell'umanità ora poiché i politici e le lobby sono un po' come dico io come i pappici sono duri a morire quindi si ostinano a a spertusare il guscio quindi nonostante il fallimento dei cosiddetti biofluers di prima generazione si sono inventati i cosiddetti biofluers di seconda generazione vale a dire dei biofluers che non sono più in competizione con il cibo anche in Europa questo tipo di produzione è fortemente oliata dagli incentivi economici pensate che solo nel 2011 sono stati investiti quasi 7 milioni di Euro contro un ritorno economico di appena 13-16 miliardi di Euro quindi si è investito più del 50% rispetto a quelli che sono stati i ricavi per produrre che cosa un qualche cosa che non è assolutamente in grado ovviamente questi combustibili vengono utilizzati quasi esclusivamente per il trasporto automobilistico quindi per produrre qualche cosa che incide pochissimo su quelli che sono i consumi energetici necessari per soddisfare la domanda poi ci sono situazioni anche abbastanza singolari io direi sono un po' come dire diplomatico per definire singolare è quello che succede in Olanda dove la produzione è estremamente limitata quindi c'è una notevole importazione sia di biodiesel che di biotanolo ma guarda caso c'è anche una forte esportazione quindi loro importano prendono a un prezzo basso e lo vendono a un prezzo più alto se guardate attentamente questo grafico che si riferisce alla produzione europea riferita all'anno 2016 di biodiesel e biotanolo sia da fonti esterne sia da fonti locali se ci fate caso gran parte di queste fonti sono fondamentalmente fonti alimentari quindi abbiamo la canale a zucchero la barbabietola il triticale il mais il grano la soia l'olio di palma una buona parte più del 50% viene importato e quindi importazione vuol dire portarsi dietro tutti i disagi sociali ed economici dei territori in cui vengono prodotti pensate al palm oil che vedete ha incide tantissimo sull'importazione europea di biodiesel come sapete è responsabile di gravi diforestazioni enormi diforestazioni soprattutto nel borne o comunque nei territori asiatici quello che ovviamente succederà per fortuna in Europa è che non ci sarà più produzione non si accetteranno più combustibili biocombustibili che derivano da fonti food quindi si dovrà fare necessariamente affidamento su scarti quindi da gli oli gli oli come dire raccolti gli oli le unused coked oil ho detto in inglese perché in italiano siamo abituati a parlare sempre in inglese ci dimentichiamo di parlare in italiano o il tall oil oppure i grassi animali ma corrispondono appena almeno del 2% quindi avranno un contributo assolutamente minimo e si può puntare su quelle che sono le fonti cellulosiche vado a dire i composti linocellulosici è quello che viene definito il bioetanolo di seconda generazione quello come dicevo prima le lobby e i politici sono come i pappici e nonostante il fallimento dei combustibili di prima generazione nel proporre i combustibili di seconda generazione quindi combustibili che derivano da biomasse da feedstock che non sono in competizione col food sono quasi sempre residui delle coltivazioni o da specifiche specie lignocellulosiche che non che non hanno a che fare nulla con la produzione di cibo comunque nonostante il fallimento della prima generazione loro propongono sempre la stessa narrativa abbiamo la tecnologia per fare questo quindi per trasformare il bio massi e ottenere il bioetanolo abbiamo ci serve per limitare quindi la nostra dipendenza dal fossile ci serve per ridurre le emissioni di gas inalteranti quindi realizzare quel famoso obiettivo della decarbonizzazione e soprattutto è anche in grado di risollevare le sorti economiche di aree che oramai si sono marginalizzate cioè dove fondamentalmente le produzioni agricole hanno perso la loro capacità produttiva questo è un caso studio specifico che riguarda la regione campania dove abbiamo studiato la possibilità di introdurre un impianto di bioraffineria quindi un impianto di bioraffineria non vuol dire soltanto trasformare in bioetanolo ma coltivare anche le biomasse specifiche il caso studio considerava la canna comune la rundodonax l'uso finale ovviamente era rappresentato dalle auto che vanno ad etanolo per farla in breve fondamentalmente è assolutamente disastroso realizzare un impianto di questo tipo quindi nonostante l'impianto fosse stato concepito per lavorare nel territorio quindi in una quella che viene chiamata la filiera corta quindi in una raggio di 70 80 100 km più o meno e nonostante la canna comune è una coltivazione a bassi impatti agronomici quello che è emerso è che fondamentalmente per alimentare un impianto capace di trasformare 450.000 tonnellate l'anno abbiamo bisogno di qualcosa come 35.000 ettari di territorio per soddisfare appena il 4% dell'esigenza energetica del trasporto della regione campania vi ricordo che la superficie agricola della regione campania è di 250.000 ettari anche se questi sono territori marginali quindi territori che hanno perso comunque una certa capacità di produrre biomasse di interesse agronomico quindi di maggiore valore aggiunto stiamo parlando di superficie impressionanti tra l'altro non è in grado appunto di soddisfare appena il 4% della richiesta energetica e poi tutto sommato non è neanche in grado di raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione perché ci sono altri impatti ambientali che sono associati alla produzione soprattutto alla produzione agricola al trasporto e alla trasformazione che riguardano altri impatti ambientali soprattutto l'etrofizzazione delle acque o fenomeni come la acidificazione terrestre il sistema è totalmente incapace cioè comunque ha una bassissima efficienza di trasformazione energetica cioè a partire dall'energia solare fino all'energia finale al netto degli investimenti energetici quasi sempre ovviamente con un'energia fossile la trasformazione netta è pari appena allo 0,11% che corrispondeva esattamente anche a 0,11 Watt metro quadro quindi con la densità di potenza che ho citato prima quindi di poco superiore alla 0 confrontato con valori che vanno da 1.000 a 10.000 dell'energia fossile di far capire la totale inconsistenza di questo sistema di trasformazione sistema che tra l'altro non è neanche capace di risolvere quelli che erano era uno degli obiettivi cioè vale a dire risolvere quelli che sono i problemi di perdita di valore economico delle aree marginali perché il costo della produzione della biomasse è talmente elevato che l'impianto di raffineria lo deve acquistare a un prezzo talmente alto che il prezzo poi finale del prodotto non è assolutamente competitivo con la benzina quindi l'unico modo per far sopravvivere questo sistema ancora una volta è quello dell'incentivazione pubblica quindi dei finanziamenti pubblici e in realtà quando parliamo di produzioni di bioenergie ci dobbiamo un attimo rendere conto di quanta terra abbiamo un po' come il famoso detto popolare che io uso nella diciamo nel modo non sessista cioè vogliamo la botte piena e il marito ubriaco la terra ci serve per che cosa per garantire i due obiettivi degli obiettivi dello sviluppo sostenibile c'era la dire ridurre la povertà e cercare di risolvere il problema della food security in un futuro non molto lontano fare anche la biodiversità quindi la terra o lo usiamo per produrre energia e far camminare le nostre macchine o la utilizziamo per raggiungere obiettivi centrali per il nostro futuro per quanto riguarda invece i difiuti che possono essere utilizzati per produrre eventuali combustibili per la trazione atomobilistica uno dei più decantati è la used cooking oil e anche qui fondamentalmente ritroviamo di nuovo l'Olanda come un paese poi non tanto virtuoso da questo punto di vista pensate che l'Olanda fondamentalmente dichiara di utilizzare il 4% ma in realtà quello che riesce a produrre pare appena al 2% quindi ha raddoppiato la quantità di questo olio l'altro 2% dove deriva da palm oil quindi fondamentalmente importa olio di palma per cercare di apparire all'Unione Europea virtuosa e infatti sempre Mario si è e ha realizzato che l'Olanda non può arrivare neanche a un chilogrammo di olio esausto più o meno questa è la quantità che può essere raggiunta dall'Europa al netto fondamentalmente per ogni chilogrammo di olio raccolto si possono ottenere 750 grammi di olio che corrisponde a circa 600 grammi di biodiesel quindi fondamentalmente una piccolissima parte rispetto a quelle che sono le richieste di diesel per capita in Europa mi dispiace interromperla però siamo ho finito ho finito sono le ultime due diapositive perfetto sono le ultime diapositive per dirti fondamentalmente ma chi suggerisce queste strategie ai nostri politici sono tacchini travestiti da economisti e io con tutta sincerità faccio riferimento a chi di economia ne sa più di me come diceva uno dei guru dell'economia Kent Boulding chiunque chi crede che la crescita esponenziale ci potrà essere per sempre o è un pazzo o è un economista e poi chi suggerisce queste cose ai nostri politici sono gli scienziati qua mi comincio a preoccupare perché ovviamente da scienziato purtroppo quasi quotidianamente mi interfaccio con realtà di questo tipo e quando gli scienziati fondamentalmente percepiscono che dietro certe strategie ci sono delle frode e non le denunciano come dice tale allora sei parte di questa denuncia e come diceva Proctor che nel 90 ha coniato ognologismo di agnotologia la scienza comincia a diventare come dire fallisce in quello che è il suo ruolo principale di produzione di conoscenza utile ma diventa produttrice di ignoranza e quindi ho finito spero di essere entrato nei tempi e vi ringrazio per l'attenzione mi dispiace soprattutto per quel disguido iniziale ma ogni tanto la rietra da i numeri ho la speranza di cominciare a vederci anche in presenza perché io sono stancato di parlare come un imbecille davanti a un computer Prof noi la ringraziamo moltissimo e le porgo subito due domande che mi sono venute ascoltandola la prima è anche un po' come posso dire provocatoria cioè secondo lei il controllo demografico è applicabile come politica e sarebbe una soluzione beh no non è una domanda provocatoria è assolutamente la domanda delle domande sì dobbiamo assolutamente puntare verso un controllo demografico non è ovviamente un'operazione semplice dobbiamo innanzitutto allora anche perché allora io spesso uso questa metafora noi in questo momento ci troviamo in una macchina che sta andando a 200 all'ora sulla strada bagnata noi non è che possiamo tirare il freno all'improvviso se tiriamo il freno all'improvviso facciamo solo danni dobbiamo cominciare a rallentare piano piano e scalare piano piano e quello che dobbiamo fare è cominciare a fare delle attente politiche demografiche di distribuzione delle popolazioni quindi garantire l'immigrazione perché noi abbiamo bisogno comunque di le popolazioni centrali sono un'operazione che stanno invecchiando quindi non c'è chi garantisce la produttività quindi bisogna cominciare a garantire l'immigrazione spalmare adesso questa distribuzione e cominciare a fare delle politiche di controllo prima che non lo facciano altri eventi come covid o altre situazioni drammatiche la seconda domanda che le volevo pure è che secondo lei la visione capitalista è compatibile con l'uso razionale delle risorse o comunque con le energie rinnovabili o dobbiamo ripensare completamente al nostro sistema diciamo economico produttivo la risposta è che no quello che siamo vivendo è una prova del fallimento del capitalismo quindi praticamente diciamo che tutte le politiche attuali sono falliativi ma sì sono falliativi perché abbiamo appena visto perché se abbiamo questo debito impressionante e se vogliamo colmare questo debito che è il risultato di una percezione capitalistica del sistema se vogliamo colmare questo debito dobbiamo necessariamente premere e i risultati che abbiamo visto sono questi cioè noi stiamo decantando tanto le energie rinnovabili ma di fatto non sarà in grado di mantenere lo stile di vita che abbiamo terza e ultima domanda secondo lei le energie rinnovabili non sarebbe meglio applicarle a diciamo a quegli strumenti di uso quotidiano che richiedono poca energia così da evitare una richiesta di consumo elevato per quelli punti di energia non rinnovabile cioè non so se mi sono spiegato bene no 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 ti sei spiegato bene allora vedi il grosso problema allora io prima ho citato il paradosso di Jevons non so se conoscete che cos'è il paradosso di Jevons io no onestamente allora il modo semplice che sto utilizzando di recente per spiegare che cos'è il paradosso di Jevons è ispirato ai recenti fatti sul bonus bicicletta allora supponiamo che tu decida di rinunciare all'automobile e passare alla bicicletta perché eco-friendly quindi si traduce in un minore impatto ambientale ma si traduce anche in un risparmio di soldi che ne fai ai soldi risparmiati? eh vabbè dipende dalla persona sostituirai un bene consumistico come la macchina con un altro consumistico quindi tu puoi efficientare allora questo tra l'altro se avete studiato l'ecologia è quello che noi conosciamo noi ecologi come efficienze ecologiche a dettare le regole non è l'efficientamento di un singolo sistema metabolico ma come funziona l'intero sistema metabolico quindi nel caso se noi tutti quanti se tutta la popolazione mondiale andasse in bicicletta determinerebbe il crollo del mercato automobilistico quelle persone che le fa fare si crea un nuovo spazio una nuova nicchia l'energia se resta invariata entra verranno utilizzate queste risorse per un altro sistema produttivo quindi dobbiamo ridurre all'ingresso quindi oltre a determinare oltre ad agire sulla popolazione dobbiamo un po' alla volta ridurre l'energia all'ingresso e le rinnovabili faranno questo perché non saranno in grado di mettere a disposizione quell'energia sufficiente per mantenere questo sistema metabolico e quindi sarà un progressivo e lento cambiamento va bene grazie mille per aver risposto alle mie domande grazie mille per la presentazione è stata davvero molto interessante la ringrazio al nome di Asnu e al nome di tutti i nostri fruitori grazie a voi ringrazio anche Michele il dottor Michele Naggi e la professoressa Carmen Arena che hanno partecipato con gli interventi grazie grazie a te Davide e grazie ad Asnu grazie a Marco per il supporto per la presentazione grazie a voi buonasera ragazzi ciao buonasera buonasera a tutti arrivederci ciao grazie